E' stato pubblicato il nuovo tascabile di Palazzo Lascaris dedicato alla consegna del sigillo della regione Piemonte all'Arma dei Carabinieri. Il volumetto, 32 pagine corredate da fotografie a colori, rientra nelle iniziative dedicate all'Arma in occasione del bicentenario di fondazione. Il tascabile è in distribuzione presso l'URP e si può scaricare dal sito del Consiglio regionale alla pagina delle pubblicazioni.